Un topo due metri per due, mamma mia Eh, Mass Effect ci ho pensato, però Ok, abbiamo finito un altro livello Anche lì ci vuole parecchio tempo, perché se dovessi fare Mass Effect li farei tutti e tre, naturalmente Scheda video, una AT Merda, una AT merda, che è rarissima R9 280X Toxic, comunque per Le puttana troia Le componenti del PC le trovate Merda, sulla pagina Facebook ci sono tutte le foto delle componenti No, qua non ne andremo Oh No, questi sono troppo agressi, qua facciamo una fine fatta male Ehm, ok Come detto per The Forest, eccetera, eccetera Sì, di... No, aspetta sto cazzo Apri tavola, occhio Ma non... Vogliono! Fottuti! Topi! Sorci! Cani! Merde! Cos'è? Con quanta cattiveria Ehm, in realtà Broforce non credo ci siano stati grandi aggiornamenti Nel senso Eh, questa è mamma topa Mamma sorscia Questi sono i fratelli un po' più grandi Ma che cos'è? Sì, vabbè, ma non muoio Cioè, anche vel... Vaffanculo Spara Spara Sputano anche il veleno Non mi sembra il caso No, siamo morti comunque Mamma mia Vediamo un po'... Eh, no, ma anche il veleno così A gratis Quindi fammo così Vaffanculo Zitti Zitti, salviamo come se non ci fosse un domani Ehm Quindi dobbiamo tornare indietro Eh, che nemmeno Sorci avete rotto il cazzo però Dai Mamma mia la cattiveria di questi sorci Mamma mia Attenzione Ho sul carpiato il sorcio Wolfenstein In realtà vorrei giocarlo Da una vita Perché è un vecchio Cioè, un vecchio È uno sparatutto che riprende il vecchio stile Delli sparatutto Quindi proprio cazzuto e cattivo Eeeh... Non lo so Non lo so Sempre, come ho detto ragazzi Purtroppo Vedete, facciamo già tantissimi giochi Quindi... Tempisticamente non è facile Sono tante di quelle cose che vorrei fare ma... Eh, gli zombie vanno a me Perché giustamente non è che sa Prendono gli topi E dai, fai un culo E basta Sputare Ma che cos'è? Ok, abbiamo salvato altri Cos'è il lanciagranate questo? Beh, eh no Eh, vabbè Che cazzo sta succedendo ma... Non lo so Dove sono? Ma scusate Ma vi sembra il caso Andatevena Ma che cazzo di armaggio Scusate Ma non mi sembra il caso Sta cosa Splinter set Sì, ci stavo pensando Eh... Ah, che cazzo Ma non è Scusate Poi tornerò da voi Ma sti rati sono Mamma mia Che cattiveria Eh, quake Ho giocato Ai vecchi Quake Soprattutto Quake 3 arena Che penso che Mi ha segnato una generazione Era un cazzuto e cattivo C'è un quake E gli un real turn Però io preferivo Quake 3 arena Cazzutissimo Oppela Eh, beh, figa sta Sto mitrozzo Peccato che comunque abbiamo già Finito le munizioni Tra l'altro il sound è sempre figo, eh No Merda Eh, vabbè, c'è un mare, toh Vaffanculo No, il razone ce lo teniamo No Doppietta Ma sì Andiamo con la doppietta Recuperiamo un po' Basta Ok Un po' di munizioni Cannoli La signora Qualtracca E un sacco di topi Un sacco di topi Non riesco a muovermi No, cambiamo Però, sì Andiamo con questa Non male che non riamo Cioè, ci siamo giocati I cannoli In mezzo secondo Eh, vabbè Ok Eh, sì, come detto Un real turn Sì, li ho giocati Anche se, come detto Ho preferito Cazzo Guarda, sti sorcioni Eh, Quake 3 Arena Ah, ci siamo proprio imboscati qua Zitti, zitti, zitti Questo è rimasto bloccato qua sotto, eh Rayman Origins o Legends? Non saprei Ho giocato Rayman Oh, merda Aspettate Eh Ok Rayman Origins Su PlayStation Vita La ormai definita PlayStation Vita A quanto pare Adesso che non ci sono segni di giochi E di vita Ehm Quindi non saprei Non saprei Occhio Ah che Sono gran bei giochi Tra l'altro Cazzo Vaffanculo Cities X Eh, sì Cities XL Stavo pensando all'altro gioco Che è simile a Cities Skyline Eh, sì Vorrei riportarlo Cazzo Cambiarmi Cambiarmi E non riesco a uscire Cazzo C'è su un macello È successo Ma hanno sbranato Come se non ci fosse un domani Ah, proprio Ripartiamo da qua Bene Allora io faccio Game in culo Le cose che stanno là Sti cazzo Dove sto? Non vedo niente Maledizione Ma che Quanta bestialità c'è E basta Ma che cos'è? Mamma mia Sim City Non lo so Sim City Probabilmente Ehm No Non vi assicuro niente Perché magari qualche live Oh Vaffanculo Qualche live Ci potrebbe anche uscire Però Come detto Non vi assicuro niente Ehm Però City Skyline Si lo Vorrei riportare Magari anche in live Perché comunque in live Bene male Cazzo No non cadiamo qua Che siamo morti Siamo morti No vabbè Impossibile però Cioè il problema è che Quando vedete che mi stanno attaccando Io provo a girarmi A spara però si blocca Proprio il personaggio Non Ehm Cioè io quando è così Non riesco a fare niente Né a muovermi Né a sparare Quindi E' un po' difficoltoso Da quel punto Di vista Perché Ricarica Secondo me Sapete cosa ci potevano Aggiungere Una specie di bomba O qualcosa del genere Che attirasse i nemici Sarebbe stata Un'aggiunta piacevole Visto che comunque Questi ti ammazzano Come se non ci fossero domani E avanti Li sto a beccare tutte Ste sputazze qua E che cos'è Vaffanculo Ok No Dark Souls 2 E' uscito per Playstation 4 Però la versione Cioè sostanzialmente E' lo stesso Del Che abbiamo già visto E giocato Quindi A parte i DLC Che ci sono No siamo morti Di nuovo Quindi Quindi No Non lo riprenderò È lo stesso Sostanzialmente I cannoli I cannoli Questi gran cazzo A tutti quanti No Andai ad affanculo Non voglio sapere niente E' successo No Cioè Ci sono Di tantissime grandezze Questi sorci Come li volete voi No Do cazzo Va Di là Di là E' successo Un magello E' successo Mamma mia Guarda là Che aggressività Ah proprio Ripartiamo da capo Mi sta facendo sudare Sto gioco Ve lo dico in amicizia Avanti Non si muove Aspettate Vabbè Ci facciamo ammazzare Cioè Ci facciamo ammazzare Non si muove Ok Ok Perfetto Momento Allora a sto punto Facciamo che Almeno di questi Ci liberiamo E basta Signora La frusta Ma che cazzo è E che cos'è Mamma mia La difficoltà Ehm No Mettiamo quest'altro Fucile Perché almeno Abbiamo qualche Colpetto in più Esci Ah riesci C'è un altro Non lo so Ok Le fogne sono Un po' Tostine Sì Uncharted 4 Probabilmente Sì Allora Non so voi Ragazzi Ma Sto gioco E' Pottarello E' proprio Vecchio stile Meta slug Mamma mia Vaffanculo Il santo del sorcio Guarda che figlio di troia Però Vattene affanculo La risalta E basta Ma che è immortale Ci abbiamo i sorci Immortali Qua Ok Momento Un attimo di Eh ma In realtà Ci sono parecchie Per le notifiche Ci sono problemi ovunque Comunque Per le notifiche Appunto Io vi consiglio Di scaricare Avevo fatto proprio il video Sul notibì Perché ad esempio Non so quanti di voi Abbiano installato L'applicazione Sul Sullo smartphone E gli è arrivato La notifica Dello streaming Nel caso Ok Mamma mia Come detto Per quanto riguarda Uncharted Cioè Se rifanno La collection Cioè ci sono voci Della collection Con i primi tre Là ci potrei pensare Perché Ad esempio Non mi è piaciuta Quella Di God of War 3 Rimasterizzato Non ha molto senso Cioè Non che non ha senso Però così Un capitolo Capisco che quelli Precedenti Erano usciti Sostanzialmente Su Playstation 2 C'era la rimasterizzazione Su Play 3 Però Già sono rimasterizzazione Rimasterizzazione Sarebbe più complicato Da fare Però Un capitolo così Buttato lì È un po' Meno digeribile Rispetto a magari Un Cofanetto Con i tre God of War I tre Uncharted Rimasterizzati Quelli Ci farei un bel Pensierino Non mi dispiacerebbe Come cosa Ammo A parte sti Sorci Di merda Cioè Dobbiamo fare Tipo il tirare Al sorcio volante Ma che cos'è Ok Avanti Non ho mai visto Dei sor Scusi eh Non abbiamo qualcosa Di meno aggressivo Magari Non è per qualcosa Sì Lanciarazzi Questo Questo non mi dispiace Ma Scusate Posso scendere qua sotto Aspettate Forse da qui Eh So che moriamo No Non scende Da qui Ah dobbiamo Riscendere Dall'altro Lato Aspettate Stavo ricaricando Cazzo Panico Panico Ok Più si va avanti E più è tosta Qua Mamma mia Cioè Come è giusto Che sia Ok Però Che cos'è Un attimo De tregua Non è vero Non c'era Prima Fa un culo Posso risalire Là Non è vero Sì No Aspettate Facciamo esplodere Tutto E ritorniamo Ok Momento Momento Ok Mamma mia Momento È che È abbastanza No No Noi lanciarate Aspetta Cambiamo arma Sì Qualcosa di Eh Che non siamo Una scacciagani No la doppietta Non mi piace Perché ha solo Due colpi In canna Quindi andiamo Con il Thompson Non mi piace 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 Non mi piace